Ho deciso di partecipare e di abbracciare questo ultimo concerto perché le nostre voci insieme diventano sicuramente una forza, le nostre voci silenziose diventano ancora più dirompenti. Quindi è un pugno, è un grido, è un allarme che stiamo gettando a chi ci deve ascoltare. È stato un periodo devastante e diciamo che stiamo vivendo un limbo, un limbo in cui in questo momento da soli noi ci diamo una speranza, quindi aspettiamo che qualcuno ci parli di una speranza concreta. Come sarà il primo concerto che farò? Non lo so perché non suonare per tanto tempo insieme non è bello perché chi è abituato a farlo sa che quell'alchimia si crea comunque suonando giorno dopo giorno, però sarà sicuramente un momento di estasi liberatoria. Grazie Grazie